Il successo è qualcosa che deve essere pianificato e il successo è qualcosa che deve essere guadagnato in anticipo. È vero, esiste una cosa come la fortuna, ma ricorda, la fortuna è qualcosa che puoi creare per te stesso se conosci le regole e le segui proprio come ti mostro. Ricorda inoltre che il successo a livello più alto è qualcosa che può essere ottenuto solo portando gli altri con te. La migliore definizione di successo che so è questa. Il successo è la conoscenza con cui ottenere quello che vuoi dalla vita senza violare i diritti degli altri e aiutando gli altri per acquisirlo. Qualunque cosa la mente possa concepire e credere può ottenerla. Non è un'affermazione profonda? Noterai che non dice nulla sulla necessità dell'istruzione, ma semplicemente su quello che la tua mente può concepire e credere che possa realizzare. Ora, se vuoi prove che la mente può ottenere qualunque cosa la mente possa concepire senza il beneficio di istruzione formale, dovrai ricordartelo. Thomas Edison ha concepito l'idea di diventare un inventore. È vissuto per diventare il più grande scienziato del mondo nel campo dell'invenzione, avendo solo tre mesi di istruzione scolastica comune. Impara ad accettare lo stato d'animo delle altre persone. Per andare d'accordo con loro, punta ad una pace con te stesso e con gli altri. Allontanati dalle relazioni che non ti accrescono e fai in modo che le persone attorno a te non siano frutto di circostanze casuali. Le persone di successo evitano sempre ogni inutile controversia. Beh, hai bisogno di un taccuino tascabile, qualcosa simile a questo qui, a fogli mobili. Sulla prima pagina scrivi una chiara descrizione del tuo principale desiderio nella vita. L'unica circostanza o posizione o cosa che rappresenti la tua personale idea di successo. E ricorda, prima di iniziare a scrivere, che sei l'unico a impostarne i limiti. Non permettere alle abitudini della tua mente o al giudizio degli altri di impostarle per te. Secondo, a pagina 2 del tuo quaderno scrivi una dichiarazione chiara di ciò che intendi dare al mondo in cambio di ciò che desideri ricevere dalla vita. E poi inizia da qui, dall'iniziare a dare. Terzo, memorizza entrambe le tue affermazioni, ciò che desideri e cosa intendi dare in cambio. Ripetile almeno una dozzina di volte al giorno e sempre, terminando le tue dichiarazioni con un'espressione di gratitudine per ciò che hai già ricevuto sin dalla nascita. La tua personalità determina il tipo di persone che attrai e quelle che invece allontani. La vita è lo spettacolo in cui mostri il tuo personaggio al mondo e questo è l'unica cosa che ti distingue da tutti gli altri esseri umani. E' il tuo marchio di fabbrica con cui le persone ti riconoscono ed è la cosa che determina il tuo successo o il tuo fallimento. Pertanto dovresti vedere la tua personalità con gli occhi di chi ti sta vicino. Solo così puoi costantemente migliorarti.